Abbiamo preso il furbi e la torcia, ora quello che dobbiamo fare è semplicemente uscire da questa fottuta cantina Oh mio dio, cosa sono quegli occhi rossi? Carica, 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 carica Ok, salve totti, sono EspiGiocchi e benvenuti in Tattletay, un incredibile gioco in cui il furbi che riceviamo per Natale prende vita e fa delle cose molto strane Quindi non dimenticate di dirmi con un commento e con un mi piace se volete continui questa serie sapendo che comunque saranno massimo altri due episodi Non sarà quindi un'avventura molto lunga ma sarà invece intensa e farà cagare sotto Espi in maniera incredibile dato che è un pochino di scaga dei giocattoli che prendono vita Ok che è un po' un cliché, si vede un pochino dappertutto ma fa lo stesso tanta scaga e sento dei rumori un pochino inquietanti qui intorno Dannazione, vengono dalla cadera forse o dalla cucina Ah comunque per coloro che non conoscono furbi scopriranno presto di cosa si tratta Mamma rispondimi! Mamma perché sento dei strani rumori provenire dalla vostra porta cari genitori? A quanto pare non mi aprono, saranno troppo impegnati a fare ginnastica o quello che fanno Devo dire che è una casa veramente veramente grande Mio Dio che soggiorno della Madò Guardate come è tutto decorato, ci sono delle belle foto di famiglia Un sacco di bei mobili Ikea Ma soprattutto dei suoni un pochino inquietanti che penso ci condurranno al nostro regalo Che per il momento non so esattamente dove sia Non ditemi che è in cantina, non ditemi che è in cantina No per favore non fatemi scendere Uh posso anche saltare, molto inquietante la cosa Non fatemi scendere in cantina, per favore, non trasformate questa cosa in un horror squallido Che si svolge tutto in cantina, per favore no Ok, dovrebbe essere all'incirca da queste parti Ci scommetto quello che volete perché ormai è l'unica stanza che non abbiamo esplorato Qui c'è uno strano vaso di colore verde E vediamo dove ci porta il richiamo del furbi Vediamo dove dovremmo andare per Cos'è stato? Per scartare il nostro regalo in anticipo Uh, eccolo lì, guardate dove l'hanno nascosto Proprio dei genitori ritardati Oh yes, vieni qua regaluzzo mio Ti scarto tutto Boom Tattletail Oh furbi, chiamatelo come volete Finalmente me l'hanno regalato Oh, lo volevo così tanto Ok, ora ti apro tutto Boom, bitch Ok, a questo punto ti ho scartato Oh no, 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 no No, 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 no Tu non puoi essere così inquietante Sei fottutamente inquietante Come potete vedere in alto a sinistra abbiamo, penso, i suoi bisogni Quindi in pratica la sua batteria Il cibo E la sua, il suo essere pulito La sua spazzolatura Stai zitto Non riesco nemmeno a sentire il suono dei miei pensieri Da quanto casino fai Ok, il mio obiettivo Ora è dargli da mangiare Come mi dice la scritta in alto a sinistra In rosso No, 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 non farmi brutti scherzi Tattletail Ora ti becchi Piano, piano Oh, stai zitto, stai zitto Che non sento nulla di ciò che mi circonda E so che sono circondato da cose brutte E ora Devo spazzolarlo Ma, Cristo santo, cos'è? Un furbi o un cavallo Che c'ho in mano E andiamo a strigliare questo piccolo bastardo Con una spugnetta ruvida per piatti A quanto pare Il pettino Quello che è Dovrebbe essere Uh, beccato Beccato, una spazzola Ok, guarda, ti spazzolo tutto E sarei bello felice Mi fai andare a dormire sano e salvo Ancora in vita Spero proprio Perché sei troppo inquietante Ok, ora devo rimpacchettare Tattletail Che poi io ti voglio chiamare furbi Perché Tattletail è troppo strano Come nome Piano piano in cantina Oh, oh, oddio Cos'è stato sto rumore? Ok, a quanto pare La luce si è spenta Piano piano Buono buono O forse mi conviene correre Forse mi conviene correre Ah, no, 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 no Nessuno, nessuno spirito Ok, dobbiamo portare Tattletail Anzi, portare il nostro Furbi Furbi immigrato All'interno del suo Pacco Un'altra volta ancora Ovviamente non fraintendete Quello che dico Cos'è questa cosa? C'è un ovetto Raccoglio ovetto Oh, yes Cibo per cani Masticato Molto buono Molto buono Grazie Quindi questi teoricamente Sono degli achievement Che possiamo trovare In giro per la casa E dobbiamo fare qualcos'altro? Oppure possiamo Rimpacchettare il nostro Furbi come se nulla fosse Direi che possiamo Rimpacchettarlo Non c'è nient'altro Qui intorno Ho controllato Rimpacchettiamolo Bamme la sua confezione Così miei non mi sgamano Che ho citato E ho scoperto i regali Prima di Natale Torniamo su a dormire Si spera Senza che nulla succeda Nel frattempo Cosa che è molto probabile Accada Lo sapete Piano piano Buono buono Andiamo verso Oh oh Telefono Indizio Non rispondere al telefono Pah Chi sei tu per dirmi Cosa devo Non devo fare Ok sono un bambino Ribelle Già ho aperti i regali Prima di Natale Ora posso anche Rispondere al telefono Sentiamo cosa Oh shish No 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 Via 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 Non voglio Non voglio sentire queste cose Spegnete Spegnete tutto Staccatemi Fili del telefono Fottuta Telecom Loro e loro Centrale in istitati Che ti chiamano A qualsiasi ora E ti fanno offerte assurde Uuu Ma cos'è questo Un altro vetto E' un po' inquietante Metterlo fuori dalla porta Palla di pelo Ma a quanto pare Siamo riusciti a prenderlo Senza morire Spero Giusto Non c'è niente di cattivo Qui fuori No a quanto pare No E possiamo tornare A lettuccio Per teoricamente Far iniziare una nuova giornata Quattro giorni Prima di Natale Gente Quindi a quanto pare Sono cinque notti Che dovremo affrontare In compagnia Del nostro Forbi Cercando ovviamente Di sopravvivere Ci sarà qualcosa di strano Questa notte A quanto pare Sento un rumore Fastidioso nell'orecchio Come se fosse uno Sbattere continuoso I miei genitori Cosa molto probabile Ma non voglio indagare Non voglio avere un altro fratellino Adesso mamma Oppure qualcos'altro Devo assolutamente Scoprire cosa Ovviamente Viene dalla cantina E sono già sceso E sono già qui in mezzo Al casino Dove viene Ok Oh mio dio E soltanto la lavatrice Perfetto Raccogliamo anche Quest'altro achievement Ormai sto facendo la collezione Lose change E andiamo A spero Spegnere questa lavatrice Nessuno ci spia Spegniti E il demoniato Si spegne Ok ok La sto spegnendo ora Scusate ero troppo Oh oddio Cos'è quello Ok ok È il nostro furbi Il nostro furbi Pensava fosse una presenza demoniaca A quanto pare È comparso davanti I nostri occhi Probabilmente l'abbiamo tolto Dalla lavatrice Non ho capito bene E ora Il nostro obiettivo È quello di ricaricare Le sue batterie Suppongo Visto che sta per crepare Tra un po' Si spegnerà E si deprimerà Alla grande E quindi andiamo A ricaricare Il suo bel faccino Bam Bitch Oh yes È molto lento A ricaricarsi A dire la verità Mi chiedo Quale sia la difficoltà Di questo gioco Molto spesso Questi giochi iniziano piano E poi iniziano a diventare Sempre più cattivi Ora Oh no Oh no Dobbiamo divertirci Io volevo rimpacchettarti subito Bisogna giocare con un vaso Nincantino Dobbiamo trovare un vaso Con cui giocare Qui Non si può esserci Vasi Ah ho presente forse C'era un vaso verde Prima Era qui Ah Dannazione Scompasso Dove è finito il fottuto vaso verde Che era qui Mi oddio Queste cose che si spostano Da solo Pure sono stati i miei genitori Spero siano stati i miei genitori Per favore Non fare Non fare che ci sia uno spirito Oh una porta aperta Il vaso verde Ok è uno spirito Quasi sicuramente Ora entriamo nella porta Ci si chiude alle spalle No Quanto pare no Ma Potrebbe succedere lo stesso Qualcosa di molto molto brutto Come è prevedibile Prendiamo il vaso Oh un ovetto Un ovetto assolutamente Ovetto prima Che ci dà Una bella Peanut shells Penso siano bucce di nocciolina Ma comunque Diamoci da fare E pigliamo sto bel vaso Con cui giocare E fare casino Oh yes Vieni qua Oh no Ok ok lo sapevo Prevedibilissima questa cosa Ma nonostante questo Mi è venuto lo stesso Lo scagotto Perché ho paura Di sapere cosa c'è Oltre la porta Nell'oscurità Cosa devo fare con questa Ah ok Col pulsante destro La ricarico Con 5 click Del pulsante destro La ricarico Completamente Posso andare avanti Oh yes Ma salve Ma salve Oddio Cosa sono quelle cose Via 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 Ok qui inizia la parte difficile Ma aspettate Tornata la luce Ok forse è stata Un'apparizione Così random A quanto pare abbiamo tipo rotto quel vaso Forse erano delle Ceneri E nel frattempo c'è un indizio che ci dice che le creature ci fanno spegnere la torcia Quando lo fissiamo E ci sono delle patatine fritte qua come easter egg Comunque a quanto pare abbiamo rotto una sorta di urna che conteneva ceneri di una persona Morte forse il suo spirito si è liberato e ora si è impossessato penso di qualche giocattolo Tipica cosa che succede a tutti ogni giorno latte cereali e possessioni demoniache Per fortuna stupido furbi ora ti posso rimpacchettare Oh perché non ne potevo assolutamente più Ok chiudiamo di nuovo il pacco regalo E ora dobbiamo soltanto tornare a letto Vivi però Vivi perché quella cosa ormai penso che sia In giro per la casa E ci stalkeri Quindi preparatevi gente Perché non sarà una cosa facile Temo Per favore fatemi Fatemi incontrare quella bestia il prossimo giorno Ma non ora non adesso non adesso per cortesia ok tutto tranquillo Oh mio dio temevo temevo di trovarmela davanti a un momento all'altro Facciamo fin di nulla e andiamo a lettuccio Oh yes tutto tra Sento bussare Sento bussare violentemente Scusi signore non c'è nessuno a casa ripassi più tardi Ok è bastato questo se n'è andato all'incirca Casomai mi verrà a toccare di notte ma facciamo finta di nulla Tre giorni prima di Natale quella creatura è ovviamente libera E noi siamo soli con la nostra torcia per fortuna Oh oh no Oh no sento brutti brutti rumori Questa volta sono veramente brutti 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 Perché dio mio è come Non lo so delle unghie su una lavagna Ah non fatemi ci pensare Ho una piccola idea sul posto da cui potrebbero provenire gente Temo che vengano un'altra volta dalla cantina E mi tocca andarci Siamo sicuri che non vengano da qui Per favore falle venire da sotto l'albero di Natale Tutte le fatine tutte le palline lucenti Che fanno questi bei rumori No a quanto pare no Mi sa che mi tocca andare in cantina 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 Bella Arrivo Oh no perché sto facendo questa cosa Piano piano Buono buono tranquilli cespi con voi Nulla potrà accadervi di male A parte un furbi assassino alle spalle Ma fate finta di nulla ok Sono teneri coccolosi Teneri e coccolosi Dannazzi ma dove viene sto rumore Qui la sala dei pacchi è completamente vuota Deve essere una stanza che ancora non ha esplosato Oh mio dio gente Ci sono delle uova Oh yes Capelli di bambola Molto interessante Molto inquietante allo stesso tempo Poi un altro easter egg Coleottero morto Benissimo Che gioia E poi un'altra cosa ancora Un pastello rotto Oh mio dio Cosa dirà tonio cartonio ora E un orecchino Perso a questo punto Però oh dio santo no 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 voglio uscirmene da questa cosa Ma mi sa che mi tocca andare avanti Non so se l'avete capito gente Ma tutti questi Cosi queste Piccole uova così vicine fra loro Ci hanno condotto A questo furbi gigante Questa mamma furbi In cui dovremmo ficcare La nostra cassetta Senza Fraintendere Quello che appena detto Ficchiamo la nostra cassetta Dentro Questo furbi femmina E vediamo Oddio No 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 Non puoi fare queste cose inquietanti No 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 Non le accetto Non le accetto No 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 Ora tu rimani lì Io ti tengo d'occhio Vado a prendere Tattletail come mi dice l'obiettivo Faccio le pippe La mia torcia elettrica Ma tu rimani ferma lì Ok Lo so che sarai tu nemico Anzi penso di saperlo già Quindi andiamo a beccare Tattletail Mentre la musica di Mama Tattletail Continua a risuonarci Nelle orecchie E andiamo a beccare Il piccolino Dove sei finito? Oh dannazione Chissà dove si sarà cacciato Quel piccolo bastardo Devo portarlo a sopprimere Sta ridendo Brutto schifoso Dove sei finito? Eccoti qua Eccoti qua Maledetto Cosa cacchi hai combinato? Guarda che disastro Mio dio Che casino hai fatto Hai rotto tutto Ma sei un piccolo vandalo Bastardo A quanto pare Mi tocca riportarti Da tua mamma Quindi mi tocca Riprendere queste scale Verso la cantina Andare a trovare Mamma furbi E schiaffarti dentro di lei Non so cosa dirti Ok Torna dove sei venuto Piccolo bastardo Che poi non so perché Ma sono così cattivo In realtà l'ho voluto io Per Natale I miei genitori Semplicemente me l'hanno preso Dov'è mamma furbi? Oh mio dio Ma qui c'è una porta Che non ho mai visto Una stanza Che non ho mai esplorato E questa è un'apertura Verso l'esterno Uh molto interessante Magari un giorno Ci sarà possibile Anche uscire da questa casa E addentrarci Nella foresta oscura In compagnia Di furbi E sua mamma Ok questa è la porta Me l'ero praticamente persa Buongiorno Oh no 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 È scomparsa Lo so Lo sapevo che sarebbe successo Piccoli bastardi Ketchup Abbiamo trovato il ketchup Così a random Mi gusta Mi gusta mucho A questo punto Mamma furbi è scomparsa Dobbiamo fare molta attenzione Perché penso che sia in caccia Ci stia cercando Perché vuole riprendersi Il suo piccolino Ovviamente Lei pensa Che gli vogliamo fare del male In realtà noi cerchiamo Di prenderci cura Di questo piccolino Dannazione Mi sono perso Dove cacchio sto andando No 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 Sono giusto giusto Perfetto Devo semplicemente Mettere furbino Nella scatola E andare a letto Un'altra volta Spero Ah no pulire Pulire il casino Che ha fatto Tatal Delo Ok piano piano Perché ora Se l'ultima volta Non è successo nulla Ora qualcosa Succederà Gente è ovvio È ovvio Che quella creatura In cerca Di noi È in caccia Di noi E ora Sarò a cristo Lo sapevo Ecco è partita È partita È partita Come faccio Come faccio Ora Deve essere qui Il piano superiore Oh no 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 Gli occhino Sino no 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 Piano 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 espi Piano No perché lampeggi tutta Non so Io non so assolutamente nulla Devo puntargli la luce contro Devo Oh cristo santo Devo Devo Guardare un'altra parte Devo correre Devo sprintare Non so assolutamente cosa Ah shish Se guardi direttamente A mamma Lei non si muove Se invece togli lo sguardo Lei può muoversi Via 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 Non so dove sia È molto vicino Sento Sento il suo suono Sento il suo suono No 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 Piano 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 No è lì La vedo La vedo Va tutto bene Va tutto bene Tranquilli Ora espi ce la farà Per fortuna Non mi ha fatto rifare tutto Siamo qui No 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 vai via Ciao 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 Rimani ferma Rimani ferma Quindi si teletrasporta In vari angoli della stanza No Ok campo libero A quanto pare Campo libero Ok puliamo sto schifo Ok le luci stanno tornando Forse siamo salvi Siamo salvi Ok siamo salvi Siamo salvi Ce l'abbiamo fatta Roba incredibile gente Roba incredibile Possiamo finalmente tornare a letto E concludere anche questa serata In compagna di furbi e sua mamma Che non è molto una donna podica E ci mancano soltanto due giorni prima di natale gente Ma questa parte di gioco vorrei affrontarla nel prossimo episodio Ditemi con un commento se vi è piaciuto E se vorreste che io lo continuassi Ovviamente lasciate un bel mi piace per spingere questa serie Penso ci saranno uno massimo due altri video Per finire questo gioco Non è molto lungo Quindi ditemelo assolutamente qui sotto Se volete un seguito Alla prossima Ciao ciao